Io ringrazio Mirka Persecchetti che è venuta da Trento e che ha fatto un'opera particolarmente affascinante. E io prego lei, il sindaco, di girare il posto di questa parte. Ma siccome la signora in oggetto non ha chiesto, lo dico perché la cosa ci ha molto colpito, non ha chiesto nulla. E siccome siamo abituati a dare a Cesare quel che è di Cesare, diamo a Mirka quel che è di Mirka. Un applauso per gli altri.